Qualcosa bolla in pentola in casa ACR Messina, nonostante il silenzio di questi giorni. Il club attende il pronunciamento del Consiglio federale, che presso si esprimerà sulle numerose società in difficoltà e a rischio esclusione dalla Lega Pro. C'è ancora chi confida nel ripescaggio, che resta però vincolato alla conclusione delle indagini, che interessano anche il Messina per la presunta partita truccata con l'Ischia. Prosegue il lavoro della Procura di Catania sull'inchiesta ai treni dei gol, per quanto riguarda il coinvolgimento dell'ACR. Come riporta oggi MessinaSportiva.it, prende corpo l'ipotesi di uno stralcio che porterebbe alla trasmissione in riva allo stretto delle carte relative all'inchiesta sulle posizioni di Lomonaco, dell'amministratore delegato Alessandro Failla e del direttore sportivo Fabrizio Ferrigno. Novità sul fronte economico, il bilancio approvato lo scorso 25 giugno è stato depositato. Nei prossimi giorni, trascorsi i tempi tecnici necessari per l'operazione, eventuali acquirenti potranno quindi visionarlo presso la Camera di Commercio e comprendere se la mole debitoria, aggiornata al giugno del 2014, di poco superiore al milione di euro, si è rimasta o meno immutata dopo il terzo anno di gestione Lomonaco. Intanto sul futuro della società si registra il nuovo interessamento dell'ex Arturo Di Napoli, che già a metà giugno aveva provato a mettere su una compagine in grado di rilevare il club. Re Arturo era stato però costretto a desistere dopo il coinvolgimento nell'inchiesta di Socher. Adesso ci riprova e sarebbe stata avviata la trattativa con Lomonaco. Nella cordata fanno parte anche Nino Micali, che guida il Forza Calcio Messina, club di promozione appena nato dalle ceneri della Spadaforese, e la Dea Cantieri Navale SRL, che ha sede in Via Don Blasco, insieme ad altri imprenditori messinesi del nord del centro Italia.